Buongiorno, sono Andrea Bassole, Audi Manager di Bonaldi Motori, concessionario Audi per le province di Bergamo, Sondrio e Lecco. Oggi scopriremo insieme la nuova Audi Q4 Sportback, l'ultima versione, l'ultima nata della gamma Q4 che proveremo su strada e che poi scopriremo nei dettagli, presso la nostra sede di Bergamo, grazie all'aiuto del nostro Audi Expert Lorenzo Pezzotta. Audi Q4 Sportback, l'ultima nata di casa Audi tra le auto elettriche, è una vettura che ha delle caratteristiche ed è un'immagine ancor più dinamica rispetto alla versione SUV, grazie alla linea di tetto discendente e allo spoiler rialzato. L'avitabilità è assolutamente impressionante, perché abbiamo un'avitabilità simile a quella di Audi Q7, vettura di dimensioni decisamente superiori. La dinamica di guida è neutra, fantastica, perché abbiamo una ripartizione dei pesi ottimali, 50% sull'asse anteriore e 50% sull'asse posteriori. Come tutte le vetture Audi elettriche Audi, Audi Q4 Sportback è un'auto che si guida, ci piace dire, senza pensieri. Infatti, grazie al nuovo servizio Audi Value Noleggio e al servizio Audi E-tron Charging Service, chiunque e in qualunque momento può approcciare una guida elettrica per qualsiasi tipo di percorso in tutta tranquillità. Ma di questi servizi vi parlerà più dettagliatamente il nostro Lorenzo Pezzotta, a cui passo la parola. Grazie Andrea per la parola. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Pezzotta, Audi Expert delle Audi Bonaldi, gruppo Eurocar Italia. Oggi scopriremo insieme l'attesissima Q4 Sportback e-tron, versione coupé della già nota Audi Q4 e-tron. Sono entrambe realizzate sulla piattaforma MEB. Con il suo design incisivo e possente, Audi Q4 Sportback definisce il futuro della mobilità elettrica. L'architettura prevede una batteria piatta nel pianale e un motore sincrono fra le ruote dell'asse posteriore, per la versione 40. Per la versione 50, con la trazione 4 e 300 cavalli totali, viene aggiunta un'unità sincrona sull'asse anteriore, che interviene temporaneamente solo quando il conducente chiede le massime prestazioni o se le ruote dell'asse posteriore perdono aderenza, garantendo la massima efficienza in termini di consumi e prestazioni. Sul piano estetico, Audi Q4 Sportback e-tron mantiene le linee sinuose e i tratti filanti di Q4, da cui si differenzia per un aspetto ancora più sportivo. Il profilo spiovente del tetto e i montanti posteriori inclinati si raccordano alla parte posteriore, donandole un carattere dinamico e accattivante, rafforzato dallo spoiler alla base dell'1.8. Il frontale è reso ancora più grintoso dalla grande mascherina esagonale chiusa, segno distintivo del design dei veicoli elettrici di Audi. Anche sulla versione Sportback non possono mancare i fari LED Matrix disponibili a richiesta. Audi Q4 e-tron Sportback si adatta alla guida di tutti, sportiva e confortevole al tempo stesso. In città appare agile e scattante, sterzo leggero, sguscia bene nel traffico e l'erogazione della potenza è dolce e progressiva, ma non appena si affonda il pedale sull'acceleratore la spinta si fa subito sentire. Il baricentro basso e la ripartizione dei pesi 50 sull'asso anteriore e 50 sul posteriore rendono piacevole e sportiva la guida anche nei percorsi extraurbani più impegnativi. Inoltre, selezionando con le palette al volante il livello massimo di recupero dell'energia in rilascio, si riesce a ridurre l'utilizzo del pedale del freno, gestendo così partenze e rallentamenti solo con l'acceleratore. E la ricarica? La batteria di Audi Q4 e-tron Sportback da 82 kW vi consentirà di percorrere i 532 km con una ricarica completa. Potete ricaricarla tranquillamente a casa con il sistema di ricarica e-tron compact che vi darà già la possibilità di utilizzare o una presa asciuto domestica normale oppure un connettore industriale. Inoltre, all'acquisto di una vettura 100% elettrica, Audi vi regalerà per un anno l'abbonamento all'e-tron charging service con la tariffa Transit che vi darà accesso a 200.000 punti di ricarica in tutta Europa usufruendo degli sconti con la compagnia di ricarica Ionity. L'abitacolo di Audi Q4 e-tron Sportback appare accogliente, spazioso e tecnologico con un utilizzo di materiali molto molto curati. Anche per la versione Sportback su Q4 troviamo il volante appiattito da entrambi i lati con i controlli touch sul volante e questa innovativa plancia a tre livelli. Con l'arrivo della gamma Q4 e-tron l'ingresso nella mobilità elettrica compie una notevole accelerazione, merito di formule all-inclusive dedicate come Audi Value Noleggio, la formula dedicata che vi farà scoprire l'innovazione a zero emissioni della famiglia Q4. Ad esempio nella versione Business con motorizzazione 40 è una formula a lungo termine di 36 mesi, 45.000 km totali sarà vostro a soli 599 euro al mese. Vi aspetto nei nostri showroom per un test drive 100% elettrico.